Qui non è una normale crisi aziendale, perché una crisi aziendale la si affronta sedendosi intorno al tavolo dicendo noi purtroppo abbiamo meno lavoro, purtroppo abbiamo una crisi in corso, purtroppo dobbiamo diminuire i costi, di conseguenza dobbiamo anche in qualche modo rientrare con una parte di personale. E allora ci si si dà al tavolo, vediamo un po' quanti esuberi, magari si parte dai più anziani che scivono verso la pensione, alcuni altri che vanno in cassa integrazione, qui parliamo di un'altra situazione, di una scelta aziendale di altro tipo, cioè la società Eleca ha comunicato a tutta la collettività, a noi regione ma a tutti i dipendenti, la volontà di delocalizzare. Come dire, in questa fase economica mondiale, Eleca opera a livello mondiale, diciamo così, per il suo settore, noi abbiamo bisogno di ridurre i costi, ma non in generale e di conseguenza preferiamo operare all'estero, in questo caso in Polonia, dove i costi sono più bassi, il personale costa meno e quant'altro. Cioè è una scelta ancora più dolorosa, se mi permetti, forse ancora più discutibile, sulla quale però è anche difficile intervenire, è più difficile intervenire, perché non si tratta di dire 500 dipendenti e dobbiamo fare a meno di 100, vediamo un po' chi sono questi 100, i meno sofferenti magari, quelli che sono più vicini, ripeto, alla pensione. Qui si tratta che di 600 dipendenti, 580, ci sono esuberi per 409, 409 esuberi vuol dire desertificare un intero territorio, quindi è una crisi praticamente grave. Allora il minimo che un assessore al lavoro fa va a incontrare quei dipendenti e solidarizza con loro, poi incontra anche l'azienda cercando di farla ripensare questo tipo di politica. Infatti il lunedì il presidente Acquaroli ha convocato per lunedì i sindacati, vuole ascoltare la voce dei dipendenti, dei lavoratori, poi successivamente ovviamente chiamerà anche l'azienda, vediamo se c'è in qualche modo la possibilità di intervenire. Grazie.